commenta il fatto del giorno marco romano direttore del giornale di sicilia giovanni verga il testimonial di una sicilia povera ma vera e sana era una scrittura nuda e crudele quella con cui giovanni verga raccontava le storie di questi uomini dolorosi spesso falliti senza però scadere nella facile tentazione dell'elegia della disperazione in malavoglia e mastro del giusaldo sono forse due delle più grandi rappresentazioni dell'opera letterale dell'italia di fine ottocento che fanno di verga insieme a manzoni a leopardi forse più grande rappresentante di quel periodo della cultura italiana alter ego per eccellenza dell'egocentrismo dell'esaltazione d'annunziana verga racconta le storie dei disperati le storie della povera gente che hanno la quasi la certezza la consapevolezza di non poter trovare riscatto in una vita di stenti e di difficoltà eppure sono storie vere storie sane quella che viene rappresentata da verga è una sicilia vera che poggia su valori importanti come la famiglia il lavoro l'ambiente e soprattutto la correttezza che in qualche modo allontana quella sicilia dagli stereotipi di una sicilia che oggi conosciamo anche se non ne fanno comunque una sicilia vincente grazie grazie